inizio preparando la frolla in una ciotola metto 300 g di farina 00 150 g di zucchero a velo 220 g di burro freddo inizio ad impastare con le mani ottengo un composto sabbioso a questo punto unisco 3 tuorli e impasto velocemente fino ad ottenere un panetto omogeneo divido il panetto in due parti nel primo pezzo unisco la buccia grattugiata di un limone e 25 g di fumina lavoro velocemente con le mani e ottengo un panetto omogeneo avvolgo nella pellicola da cucina lascio riposare il frigo per un'ora nel secondo pezzo di impasto unisco 25 g di cacà in polvere e un cucchiaino estratto vaniglia lavoro sempre velocemente con le mani e ottengo un panetto omogeneo avvolgo nella pellicola da cucina e lascio riposare in frigo per un'ora trascorso il tempo necessario stendo con il mattarello le due frolle ottengo delle sfoglie spesse circa 3-4 mm incido con le forme che più mi piacciono passi da nesi prima nello zucchero simulato solo da una parte dispongo sulla teglia da forno coperta con carta forno con un altro pezzo di frolla metto le gocce di cioccolato stendo con il mattarello e incido con l'aiuto dello stencil ricalco la frolla ottengo delle decorazioni molto particolari a questo punto metto in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 20-25 minuti i biscotti devono risultare leggermente dorati e ora procedo con la decorazione naturalmente spazio alla fantasia e andrò a utilizzare della crema di nocciole della confettura di albicocche cioccolato fondente bianco granella di pistacchi ciliegie candite noci e zucchero a velo noci e 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 in occasione in occasione della festa della mamma i biscotti sono tre regali da fare più tenere e originali con questa ricetta semplice e veloce potete dar spazio alla vostra fantasia e preparare dei biscotti semplici e buoni allo stesso tempo molto scenografici da personalizzare a seconda dei gusti della festeggiata naturalmente provateli e fatemi sapere miei cari amici un abbraccio e noi ci vediamo prestissimo ciao a tutti